cari fratelli e sorelle nero azzurro e sono sempre don gigi inter purtroppo settimana scorsa non ho potuto fare la solita letterina al signore perché ero appunto a fare un momento di raccoglimento di tre giorni con i cari con fratelli purtroppo non ho potuto vedere la partita o fortunatamente d'altronde eravamo in preghiera mica si può pensare all'inter quando si è in preghiera anche perché è meglio così almeno non ti arrabbi e quindi niente purtroppo ho assistito dopo agli highlight della medesima partita perché fortunatamente Sky ce lo possiamo permettere quindi lo sport sì ci hanno messo il parente al controllo perché certi film almeno non siamo neanche tentati a vederli però lo sport quello sì e quindi ho visto ai me cosa hanno combinato comunque vediamo alla partita di domani quindi domani dobbiamo pregare per la nostra amata squadra che domenica 3 febbraio 2019 alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza affronta il Bologna sulla carta la partita non dovrebbe essere esageratamente ostica visto che affrontiamo una squadra che solo la scorsa settimana ha preso quattro gol per giunte in casa contro il Frosinone che è penultimo però ci sono tanti aspetti da vedere innanzitutto la squadra emiliana ha cambiato allenatore adesso c'è Sinisa Mijajlovic e sapete bene che quando una squadra cambia l'allenatore poi in panchina c'è l'esnaziale nerazzurro che però si macchiò di un atto brutto brutto andando ad allenare al Milan dopo che precedentemente aveva detto che non l'avrebbe mai fatto quindi temo avrà il dentino avvelenato per le cose che gli hanno detto inoltre i nostri cari quasi tutti i mercenari come ogni stagione tra natale e fine febbraio vanno in letargo speravamo non ci andassero anche grazie alla bella vittoria sul Napoli bella insomma è arrivata poi lasciamo perdere quello che è successo prima dopo dura eccetera eccetera però è arrivata questa vittoria e invece siamo da capo due partite di campionato un punto e fuori dalla Coppa Italia quindi tre partite anche in questi giorni ho dovuto abusare e me del metodo padre Pedro di cui parleremo poi dopo per chi non lo conoscesse ancora comunque andiamo a scrivere la nuova lettera al Signore quindi vado a togliermi come sempre il capelluccio appoggiamo a terra e andiamo a leggere la letterina dalla diciassettesima lettera di Don Gigi l'Inter al Signore era appunto il 3 febbraio 2019 e l'Inter si apprestava ad affrontare il Bologna del nuovo allenatore Mijajlovic preghiamo allora il Signore affinché almeno con la terz'ultima del campionato italiano la nostra amata Inter torni a vincere e convincere visto che anche questa domenica saranno quasi 60.000 i tifosi che andranno allo stadio e meritano di vedere un bellissimo spettacolo e una grande vittoria poi vorrei fare una preghiera particolare per i due nostri dirigenti Piero Ausiglio e Beppe Marotta visto che si sono presi una bella gatta da pelare dato i giocatori esplosivi caratterialmente che ci sono nella nostra rosa se usassero questa loro esplosività in campo invece di lesionare i testi per chiedere aumenti per fare le solite lamentele e soprattutto per far incavolare i tifosi con atteggiamenti svogliati e partite da 5 in pagella per eccesso magari sarebbe molto meglio quindi preghiamo il Signore affinché i nostri due dirigenti riescano a disinnescare le micie dei vari ordini che si sono accesi alla pinetina prima che veramente esploda tutto e rischiamo di buttare via terzo posto e anche l'Europa League che non pretendo che riescano a vincerla sarebbe già tanta roba ma almeno arrivare ai quarti di finale almeno quelli che tra l'altro nella nuova competizione non abbiamo mai raggiunto e sarebbero anche importanti per migliorare un po' il ranking in Europa poi preghiamo il Signore sempre nella sua infinita bontà per il nostro caro si fa per dire Rajan Angolan che per il momento è stato più dannoso che utile tra infortuni e svogliatezza tra l'altro anche sbagliato il rigore che ha eliminato contro la Lazio e chiediamo al Signore che almeno fino a maggio gli permetta di dimostrare che ancora quasi quel giocatore che abbiamo ammirato e non quello visto finora perché per il momento l'affare l'ha fatto la Roma visto che Zagnolo sta dimostrando di essere un giocatore bravo serio di personalità e sta crescendo di partita in partita a differenza del belga infine preghiamo il Signore per il nostro attaccante capitano Mauro Riccardi affinché si risolva finalmente la questione contratto ma soprattutto non si stanchi troppo con i piacevoli doveri coniugali ma si dia una mossa in campo visto che da un po' che non segna in campionato almeno in Coppa Italia ha dimostrato di essere un uomo con i testi belli grossi tirando quei due rigori con una freddezza incredibile ma il campionato è ora che comincia a recuperare il terreno perduto visto che è nettamente sotto media bene ringraziando il Signore come sempre perché ha avuto la pazienza di ascoltare questo suo servo molto devoto lo ringraziamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e che Don Mario Inter e io abbiamo leggermente cambiato per farla su misura al nostro bisogno quindi preghiamo insieme padre nostro Inter che sei nei cieli dei razzurri sia santificato il tuo nome venga al tuo regno e fai tornare possibilmente anche quello dell'Inter se poi fosse come nel 2009 2010 sarebbe molto bello ma va bene anche uno simile per quest'anno ci accontentiamo di rimanere almeno al terzo posto sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra ma soprattutto fai vincere l'Inter che è un po' che non vince dacci oggi la nostra vittoria settimanale che manca da due settimane e rimetti a noi i nostri tre punti in modo da proseguire il mantenimento appunto del terzo posto come noi rimettiamo alla classifica e non ci indurre in serie b ma liberaci dagli errori dei nostri giocatori che cominciano anche essere troppi e trasforma le ingiocate bellissime da applausi ma soprattutto dalla sconfitta e dal pareggio con il bologna del nostro estra e traditore mihailovic che come san pietro non ha mantenuto la parola data ed è andato all'inferno ad allenare i diavoli rossoneri amen ah naturalmente rinnovo il consiglio che vi sto dando da qualche mese e che in queste settimane ne ho abusato tantissimo quindi vi riscrivo il piccolo suggerimento per evitare durante la visione della partita di inveire o dire parole sconvenienti qualora qualcuno dei nostri giocatori dovesse commettere qualche errore oppure il nostro allenatore faccia qualche cambio che non suscita un riscontro positivo per usare un affemismo di dire parole o fare gesti inconsulti che potrebbero fare incavolare il nostro amato signore che potrebbe toglierci la sua benevolenza di cui vista la situazione abbiamo un gran bisogno quindi vi invito nuovamente a usare il metodo di padre pedro alias ma spencer imporgi l'altra guancia che è il seguente san camillo san camillo fammi stare un po tranquillo san tommaso san tommaso or mi viene la mosca al naso san clemente san clemente fa che sia molto paziente che se perdo la pazienza devo fare penitenza bene cari fratelli e sorelle nerazzurre il nostro momento di raccoglimento è finito potete andare in pace amen